buon pomeriggio gialli benvenuti alle pagelle di modena lecco come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale di cliccare sulla campanella per essere immediatamente aggiornati partiamo gagno 6 e mezzo bella prova di spider man è riuscito mantenere la porta inviolata ha fatto una bella parata nel corso del primo tempo diciamo che forse è stato bravo l'attaccante a fargli quel tiro lì e allo stesso tempo forse era leggermente fuori posizioni ma si è riscattato da grande o con un tuffo bellissimo poi per il resto ordinare amministrazione nel secondo tempo si è preso giornale se l'hai guardato se l'hai sfogliato perché è stato totalmente inoperoso nel secondo tempo l'unico è stato nel primo tempo in cui ha fatto qualcosina in più ma nulla di che comunque mi piace finalmente dire che il gagno non si deve troppo non deve troppo sudare la maglietta vuol dire che la fase difensiva funziona ucada 5 e mezzo al solito ucada stiamo sempre a dire che ucada è un po il nostro tallone d'achille è un po il nostro giocatore che deve deve riscattarsi deve migliorare anno dopo anno però al momento diciamo che l'ucada della passata stagione è identico a l'ucada di adesso quindi non ho visto quello step in più che mi aspettavo comunque la stagione è ancora lunga c'è anche un giocatore che ha ampi margini di miglioramento mi auguro veramente di federgli questi ampi margini di miglioramento perché ieri siamo sempre lì a volte gioca anche con un po troppo di sufficienza cerca sempre un po non sempre però talvolta cerca quella giocata di fino che c'è che tenta il rischio infatti in una ripartenza gli hanno rubato il pallone a momenti ci potevano infilare e a livello qualitativo di davanti sia sempre da dire che nei cross è una grossa pecca zero 6 male non male comunque non mi è piaciuto tantissimo zero nel primo tempo nel secondo tempo si è riscattato passando con la difesa 3 e liberamente ho rivisto il solito zero che ci sono siamo siamo abituati a vedere con lo zero che cerca l'anticipo cosa che porta il pallone con personalità nel primo tempo secondo me gli attaccanti dell'eco hanno prestato sia lui che per greffi in maniera costante quindi sono andati un pochino in difficoltà non abbiamo subito gol per cui la sua sufficienza se la porta a casa ha fatto veramente delle belle prestazioni fino ad ora azzaro mi è sempre piaciuto per greffi 5 male capitano difficoltà talvolta cercava nel primo tempo anche un po troppo la giocata forzata in passaggio la ricerca della questa costruzione dal basso ed è rischiosissimo perché se ci rubano il pallone quelli partono e ci infilano perché per greffi e zero sono gli ultimi uomini quindi va bene la costruzione dal basso però bisogna anche cercare di buttarla in avanti quando comunque loro pressano poi va benissimo che non dove che loro avremmo fatto il loro gioco buttarla in avanti però le mie riscerne mi è un bel lavoro in difesa e ad ogni modo si è preso subito il cartellino giallo appena iniziata la partita bianco è stato secondo me intelligente a sostituirlo nel secondo tempo in vista anche della gara con il su tirolle giubre 6 gli do il 6 magari c'è chi dice che gli ho dato un voto troppo poco però devo fare il confronto tra il ghebre del primo tempo e il ghebre del secondo tempo perché sono due ghebre differenti nel primo tempo malissimo cioè era una valutazione da 5 scarso è perché onestamente difensivamente abbiamo rischiato nel secondo tempo era una gara da 6 e mezzo cioè quindi insomma trovare un equilibrio tra i due tempi gli do il 6 perché nel secondo tempo è ritornato a fare l'esterno in un centrocampo a 5 barra 4 e ho visto che ebbero un troppo positivo che non doveva troppo badare alla fase difensiva perché aveva dietro Kautz e lì poteva anche fare di più secondo me forse era un po' un po' cotto poteva incidere con maggior qualità nel primo tempo invece pasticciona lì in avanti anche cercava di due etare con palumbo ma tutta questa gran qualità non c'era dietro abbiamo rischiato un paio di volte di farci imbucare quindi la valutazione 6 gherly 6 e mezzo un primo tempo nì un secondo tempo che invece mi è piaciuto veramente ha fatto una bella gara gherly ha fatto un primo tempo non da non da 5 metodi primo tempo da 6 ma è salito più in cattedra appunto nel secondo tempo dato sempre sotto il via i suoi i palloni come come sa lui nel secondo tempo addirittura cercava di incunearsi di fare l'ultimo passaggio in particolar modo quando è uscito tremolada cercava lui un pochino di fare l'ultimo passaggio ovviamente non è non è il suo mestiere però quando parti in serpentina ti aspetti sempre che gherly possa combinare qualcosa il passaggio decisivo un tiro peccato che però non è andata battistella 5 e mezzo mi fa un sacco piacere che sia tornato in campo battistella dal primo minuto però la gara di la gara di ieri non è stata un gran che non mi aspettavo che faceva delle una prestazione super però in occasione della dell'occasionissima di tremolada lui era lì era lì che era pronto a farsi dare il pallone potremmo la da non gliela dato comunque poteva essere potenzialmente una bella occasione da rete poi il resto ha cercato di combattere di fare di insomma di darsi da fare però non è stato capace di incidere una gara da 5 e mezzo ma insomma tanti ampi margini di miglioramento battistella che veramente se ci tengo tanto sto ragazzo perché a carrara che c'è vedere delle grandissime cose quando lo acquistamo e secondo me l'abbiamo pagato anche abbastanza caro a delle doti importanti spero proprio che riusciamo a lavorarci per tirare il meglio fuori da questo ragazzo fuori il meglio da questo ragazzo palumbo 5 e mezzo prima insufficienza che dopo a lungo primo tempo vero battagliero cioè io non lo faccio sempre il solito discorso io dai giocatori forti dai giocatori bravi mi aspetto sempre quella giocata in più quella quel tipo di partita in più e la partita di palumbo ieri è stata insomma poco qualitativa grande sostanza abnegazione lottatore c'è stata anche una aveva fatto anche una bella giocata che poi quella che mi ricordo di più nel primo tempo quando aveva due uomini attaccati e cercava di ed è riuscito poi a superarli con grande qualità però al di là di quella giocata io palumbo onestamente non gli ho visto fare le cose che secondo me è in grado di fare vorrei anche che lui tirasse un po più dalla distanza per cui il mancino ce l'ha lui ragazzi lui è uno che ti può fare delle sventagliate da 30 40 metri ad occhi chiusi quindi il tiro dalla distanza secondo me l'abbiamo visto anche a terni ce l'ha vorrei veramente che fosse un po più presente a livello offensivo poi chiaro che deve fare deve alternare le due fasi questo è importante l'equilibrio è fondamentale ripeto lo vorrei vedere un po più propositivo nella gara di ieri l'ho visto ok partire subito nel centrocampo 3 come mezzale poi è passato a fare insomma il partner di gerli nel centrocampo a due e lì un po cambia la situazione questo dopo è stato sostituito era anche un po nervoso dopo la sostituzione quindi mi auguro che nella gara penso che giocherà a bolzano sia più via più incisività sia più qualitativo di davanti per molada 55 perché sulle spalle un'occasione sima l'occasione principale di dell'intera gara e uno come lui con l'occasione di non lo può fallire poi invece di dar la battistella che stava arrivando ha fatto quel tiro bruttissimo e poi al di là di quello non è che ha fatto granché poi è chiaro che io da tremolata ci aspettiamo sempre che metta l'attaccante davanti al portiere e quando non gli riesce è una gara da 5 e quando gli riesce una gara da 8 è un po la croce su questo questo ruolo e su quello che può dare luca però effettivamente poi nel secondo tempo è scomparso ancora di più e la gara per me non è stata sufficiente ripeto grosso demerito è stato non il non concretizzare un'occasione che da uno come lui insomma poteva fare quello che voleva in quella circostanza per cui prima insufficienza stagionale per luca strizzolo 5 non strizzola di là di qualche qualche duetto con manconi qualche giocata nello stretto con manconi e qualche sportellata ma non mi ricordo la gara di strizzolo peccato anche ci aspettavamo che facesse gol ad ogni gara comunque in cinque partite ha fatto tre gol buonissima media ci saranno altre occasioni peccato che la partita di ieri strizzolo non ha inciso per nulla manconi 6 gara migliore rispetto a quella con la feralpi è stato molto più dinamico in particolar modo secondo me nel secondo tempo quando è stato messo dietro le punte però peccato che nel primo tempo aveva una bella occasione di contropiede poi è stato attarrato dall'avversario lì l'arbitro non l'ha munito la gara dell'arbitro non mi è sembrata splendidissima peccato che non abbiamo sfruttato la velocità di manconi e la sua la sua esplosività da questo punto di vista perché se gli da il pallone manconi va è uno che corre ripeto peccato che non abbiamo sfruttato la sua velocità comunque la gara da sé nel secondo tempo è migliorato vorrei che anche lui come era partito con l'ascoli che aveva preso quella traversa tirasse più dalla distanza per cui il destro ce l'ha veniamo subentrati riccio 6 e mezzo bella prova di sto ragazzo qua mi è piaciuto non conosco lui sempre più bravo in una difesa 3 o una difesa 4 non lo so come giocava nella juventus next gen comunque ad ogni modo bellissima prova di riccio è entrato con personalità entrato entrava in anticipo sugli avversari c'era uno che bello capabile bello tosto a volte si portava anche in avanti nei calci d'angolo era in aria veramente bellissima prova di riccio un giocatore azzeccatissimo al momento insomma per questa apparizione che è insomma di questo secondo tempo bella prova poi ovviamente è stato anche tra virgolette un po aiutato dagli attaccanti del deco che secondo me erano spompi il deco ha corso come hanno corso come dei dannati nel primo nel secondo tempo hanno badato tantissimo la fase difensiva per non prendere gol comunque a di là di questo quando il deco prova a portarsi in avanti riccio è stato perfetto bravissimo questo ragazzo caos sei partito leggermente timidino poi secondo me bianco gli ha detto stai più avanti stai più attaccato gli ebre e gli mi è piaciuto di più caos comunque ad ogni modo ha fatto una bella prova anche lui bella ordinata chiaro è sempre stato abituato a giocare in una difesa 3 come braccetto di sinistra lui si è trovato nel suo regno in quel senso vedremo poi nel corso del campionato se giocheremo con la difesa 4 come si comporterà in ogni modo la sua gara è stata non è partito su alla perfezione subito ma poi si è messo in riga ha fatto una gara ordinata magnino 6 6 non mi aspettavo che entrasse magnino e faceva il fenomeno mi aspettavo che entrava magnino magari poteva essere incisivo poteva inserirsi in area poteva vedere un qualche calcio d'angolo poi ha tirato quello scarpone nel tutto l'esterno a destra però comunque sapete magnino è un giocatore che deve far girare anche deve far girare pallone comunque deve stare lì deve non far ripartire gli altri ha ovviamente ha tolto via palumbo per dargli un po più di fiato anche al centrocampo per dargli un po più di nemicità però ha fatto una gara diciamo ordinata senza infamia e senza lode abbiuso 5 e mezzo non è che poteva entrare fare gol come a cosenza magari si è dato da fare a sportellate ha cercato un po di fare del movimento però stringi stringi non è che ha fatto granché peccato insomma avrà modo di rifarsi un ragazzo giovane e vedremo insomma nel corso del campionato come verrà inserito e bonfanti 5 e mezzo si è mangiato un'occasione madonna mia che poi bisogna vedere se non so se era in fuorigioco meno comunque ad ogni modo lì 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 va fatto gol capisco entrato a freddo tutto quanto però mannaccia cioè bonfanti deve fare gol a lei anche niente da fare lì bisogna fare gol devi essere l'estero era l'occasione cioè se facevi gol veniva giù lo stadio e riuscivamo a portare a casa questa partita peccato e niente comunque ad ogni modo ha fatto sempre un po la gara alla bonfanti un po cerca di sport a fare sportellate in area a tenere il pallone però la valutazione si basa principalmente su quell'occasione fallita 95 bianco 6 allora bianco mi è piaciuto tantissimo quando ha deciso di cambiare modulo nel secondo tempo come disse nel post partita di ieri non amo la difesa 3 centrocampo 5 attacco 2 però ragazzi questo qua nel secondo tempo ha tolto via battistella ha tolto via per greffi è passato una difesa 3 per metterci un po specchio con gli avversari e ha cercato di sfruttare le fasce laterali cosa che però è venuta parzialmente e lì è stato bravo perché non è si è capito che non è un allenatore mono modulo come avevamo tessere l'anno scorso che 4 3 1 2 4 3 2 1 quello che è poi si metteva a 5 a 3 quello che è alla fine per difendere il risultato ma diciamo dictata è sempre quello di tessere invece il pregio di bianco è quello anche di cambiare modulo di provare anche altre soluzioni e fondamentalmente se riuscivamo un po a giocare un po più sulle fasce sempre più qualitativi magari potevamo portare la casa questa gara primo tempo invece non bello del modena ha fatto girare il pallone con veramente pochissima velocità e in queste ultime due gare un po è stata un po la pecca contro delle squadre che si chiudono completamente non fanno passare neanche un pacchetto di patatine lì abbiamo fatto abbiamo fatto fatica evidente se manca un po la gara degli attaccanti e di tremolada ancora peggio però è stato bravo ha cambiato modo ci ha provato non è andata bene ma pazienza insomma importante non perdere lo dico sempre lo dicevo nella passata stagione abbiamo fatto cinque partite abbiamo fatto cinque risultati utili consecutivi chiaro l'amaro in bocca è rimasto perché con la ferralpi con il lecco ci aspettavamo di portare a casa sei punti almeno quattro però adesso vediamo testiamo la famosa febbre affrontiamo il sul tirolo affrontiamo venezia affrontiamo il palermo è chiaro che se andavamo con sei punti dopo queste due partite da affrontare queste altre tre sarebbe stato meglio però vediamo un po se questo modena affrontando degli avversari che se la giocano che vogliono anche loro portare a casa dei tre punti non un punto striminzito o comunque se portano a casa un punto ad ogni modo giochi con delle squadre che vogliono puntare in alto in particolar modo venezia palermo e vediamo adesso com'è in modena questo è un bellissimo banco di prova per testare le nostre ambizioni per vedere che di che pasta siamo fatti dai gialli